Il 27 luglio al Moscato si inaugura il nuovo reparto di Oncologia, un reparto nuovissimo che va a sostituire quello in cui si è svolta per oltre 20 anni l'attività di Oncologia in maniera, tra virgolette, rancata, ma è un'inaugurazione sui generi, perché l'oncologia è ancora in corso e l'unica cosa che dimostra l'inaugurazione a presente di ospiti per diventare la voce. L'inaugurazione è stata annunciata in una fase di... Ma che l'hanno annunciata a fare con l'inaugurazione oggi, con la presenza del direttore sanitario, del comitato apprezzato... Direttore sanitario in generale viene sempre avvisato per un atto di... perché è un estraneo, anche se io sono Presidente della Quinta Commissione, anche se io sono consigliere regionale, comunque il direttore generale deve essere avvisato della sua presenza. Lui è venuto tuttanto per avere un'idea della situazione come sta. Ma non è venuta ancora. È venuto e sei andato... È il Presidente della Quinta Commissione, il dottore, è venuto, ha preso visione ha preso visione, era accompagnato dal sindaco di Sant'Antimo, e ha preso visione della situazione perché credo che lui è stato uno dei fautori dei fondi che sono arrivati.